Ledger Stacks, recensione in italiano del nuovo incredibile prodotto di casa. Ledger, l'hardware wallet numero uno al mondo, che costerà molto più del Ledger Nano X perché avrà una marea di funzionalità in più. Benvenuti su Cryptovalute Italia, benvenuti in un nuovo video. Prima di andare avanti, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina di tutte le notifiche per non perdere altri contenuti come questo. Nello stesso tempo, fondamentale, vi ricordo che se volete acquistare e preordinare il prossimo Ledger, Ledger Stacks, lo potrete fare dal link che troverete in basso in descrizione sotto a questo video. Grazie al nostro link avrete sempre accesso alle migliori offerte di Ledger ma soprattutto supporterete il canale, quindi a voi non cambierà nulla ma a noi cambia molto. Mi ricordo anche che è in prevendita e quindi potenzialmente potrebbe finire presso e potrebbero non esserci più dei Ledger Stacks da poter acquistare, quindi vi consiglio, se lo volete prendere, di farlo il prima possibile e poi, già come potete vedere adesso in sovimpressione, verrà spedito entro la fine di marzo 2023. Quindi oggi lo preordinate e entro la fine di marzo 2023 verrà spedito. Non posso assicurarvi nulla perché non sono Ledger, ma generalmente quando vengono lanciati prodotti di questo tipo è facile che vadano sold out e che poi dopo tanti tanti mesi riescano nuovamente poche copie, un po' come è successo anche con PlayStation 5. Vi faccio un esempio su un'altra cosa però per farvi capire cosa potrebbe accadere. Quindi ripeto, se vi piace vi straconsiglio di ottenerlo. Prima di andare avanti vi ricordo anche che abbiamo un canale Telegram dove all'interno pubblichiamo notizie dedicate al mondo delle criptovalute, Cryptovalute Italia Official, ci trovate su Telegram, trovate anche il link in descrizione, iscrivetevi anche perché stiamo lanciando dei giveaway. Quindi in primis la cosa fondamentale da capire è che questo Ledger Stacks si può preordinare oggi, vedete, potete cliccare su preorder, ha una solo colorazione, eccolo qui quello che lo vedete in sovimpressione e costerà molto di più del Ledger Nano X perché mentre il Ledger Nano X oggi lo abbiamo a 149 euro, il Ledger Nano S Plus a 79 euro, il Ledger Stacks costerà 279 euro. Iva inclusa, ok? E in più, guardate un po', già possiamo visionare alcune cose che avrà Android, avrà iOS, recuperate anche i video che abbiamo realizzato sulla recensione di Ledger Nano XS Plus, avrà il Bluetooth, ma avrà Windows, sarà compatibile con Mac, più di 5.000 coins, ma attenzione, sarà customizzabile, poi vedremo cosa vuol dire, ha la ricarica wireless ed è touchscreen, quindi diciamo che sembra un po' un iPod, quindi qualcosa comunque che abbiamo già intravisto in passato nei prodotti Apple, però non c'entra niente. Quindi io adesso quello che vado a fare è cliccare su preorder ed essenzialmente, vedete, me lo mette qui, me lo mette qui, poi naturalmente alla fine andrà ad aggiungermi come potete vedere l'iva e quindi vado su checkout. Ma prima di andare a fare il preorder, quello che vado a fare è cliccare su guarda i dettagli, ok? Traduco la pagina in italiano così comunque possiamo capire meglio come funziona. Ledger ci dice che Ledger Stacks è stato creato per l'uso quotidiano delle tue criptovalute NFT, con chiarezza e comodità, quindi è un hardware wallet. Firma in chiaro le tue transazioni con facilità, sul primo touchscreen è ink curvo al mondo. Naturalmente qua la traduzione lascia il tempo che trova, ma comunque come potete vedere è un touchscreen curvo, ok? Puoi naturalmente assegnargli un nome, personalizzare la schermata di blocco con un tuo NFT o foto preferita. Quindi puoi personalizzare totalmente questo Ledger Stacks. Affida la tua tranquillità e la sicurezza senza compromessi a leggere. Ok, perfettissimo, quindi innanzitutto guardate un po', questo è come si presenta il Ledger Stacks, ok? Ci fa vedere anche la grandezza rispetto allo smartphone. Qui come potete vedere sulla destra abbiamo la batteria, abbiamo alcune informazioni e qui naturalmente possiamo cliccare sulla rotellina per andare nelle impostazioni, cliccare sulla freccia avanti e indietro per poter andare a vedere le varie app e qui abbiamo le app dove ci sono le varie criptovalute, Ethereum, Bitcoin, Solana, eccetera, eccetera. Ecco come si presenta anche esternamente, eccolo, qui vi faccio vedere le varie versioni, qui abbiamo anche un video che è stato pubblicato anche all'interno di YouTube che potete andare a vedere. Quindi la prima grande novità è che è un touchscreen, quindi noi naturalmente possiamo con il nostro ID andare a cliccare all'interno del Ledger Stacks e naturalmente andare a interagire con il nostro Ledger e naturalmente con le cripto che abbiamo all'interno del Ledger. La ricarica è anche senza fili, quindi abbiamo la possibilità di ricaricarlo wireless che è una cosa che ormai fanno la maggior parte degli smartphone e quando si parla di personalizzabile puoi assegnare praticamente un NFT, quindi se tu hai acquistato un NFT inizia a vedere iniziano ad avere senso un po' gli NFT in qualche modo l'NFT che tu hai acquistato lo puoi mettere all'interno del tuo Stacks come sfondo per la schermata di blocco, ok? E quindi anche quando il Ledger è disattivato tu visionerai appunto questo NFT. Qui vediamo se ci sono altri dettagli particolari, ci spiega naturalmente che è una ricarica senza fili, quindi un cavo in meno da portare in giro, dotato di Bluetooth, puoi connetterti al Ledger Live mobile sempre ovunque che è una cosa che può fare anche il Ledger i Nano X ma non l'S+. Il nostro display più grande di sempre semplifica la navigazione e la firma delle transazioni, naturalmente rispetto al Ledger Nano X e S+, che sembrano due chiavette qui è molto più grande e quindi anche per chi preferisce naturalmente avere uno strumento che visibilmente è molto più grande, ok? E quindi anche più facile da usare naturalmente qui ha tutto quello che serve perché realmente è il top degli hardware wallet questo Ledger Stacks, non credo che ci sia niente di meglio sul mercato. Puoi personalizzarlo come abbiamo detto con l'NFT, poi naturalmente ci spiega che non è più spessa di una pila di 5 carte di credit, quindi potenzialmente lo potresti magari mettere anche in tasca, io non so quanti di voi vogliono portare in giro il Ledger, ma se avete bisogno perché viaggiate spesso ecco che è una cosa molto utile. Vi ricordo naturalmente che senza poi le chiavi che voi avete a disposizione, anche se perdete l'hardware wallet, voi potete recuperare naturalmente tutte le vostre crypto su un altro hardware wallet con la vostra seed phrase, quindi su questo non vi preoccupate. Attenzione a anche dei magneti che serviranno a impilare i vostri Ledger, infatti è composto da alluminio plastica e questi magneti incorporati. Il colore per adesso è nero, qui ci spiega qual è il chip utilizzato, batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio da 200 mAh per ora, rimane acceso per diversi mesi quando non viene utilizzato e ha anche a piena ricarica, quindi qua ci spiega che dura veramente tanto, ricarica wireless inclusa naturalmente, il formato è quello delle carte di credito, quindi queste sono le dimensioni, 85 mm così potete anche prendere naturalmente spunto dalla vostra carta e la misurate per capire se è reale, 85 x 54 x 6 mm e il peso è di soli 45 grammi. Ha il bluetooth 5.2 per connettersi a uno smartphone e naturalmente si può anche collegare con il cavo USB di tipo C, il classico cavo che abbiamo anche per esempio per il Ledger Nano X e per l'S+. Si può connettere a Windows, Mac, Ubuntu eccetera eccetera, compatibile con iOS e Android, non è compatibile con i Chromebook, non adatto per l'estrazione, quindi per il mining. Un touchscreen curvo in bianco e nero, qua ci spiega qual è il tipo di schermo, quanto è grande il display, 3,7 pollici, la risoluzione di 400 x 672 pixel, niente male, e 16 scale di grigio. Le risorse naturalmente sono 500 criptovalute e token diversi supportati nell'app Ledger Live, Ethereum e Polygon NFT supportati nell'app Ledger Live che ci possono servire naturalmente, in questo caso specifico per andare a impostare poi le NFT, più di 5.000 criptovalute che naturalmente queste possono essere sfruttate con Ledger Live in qualsiasi dispositivo, nella scatola avrete questo hardware wallet, un cavo USB-C, da USB-C a USB-C, un foglio di recupero e guida alla contabilità generale, essenzialmente il manuale, poi le traduzioni lasciano il tempo che trovano. Qui ci spiega, se perdo il mio Ledger Live, perdo le mie criptovalute, non preoccuparti se sei in grado di accedere e gestire e recuperare la tua cripto, intanto che la tua frase segreta di recupero, la seed phrase, è sicura e accessibile solo a te. Attenzione, un aspetto molto importante è che sia il Nano S+, sia il Ledger X, hanno la possibilità di installare fino a 100 app. Sappiamo che il Ledger Nano X ha una memoria di 1,8 MB, nel Nano S+, di 1,5. Qui guardate un po', quando dice oltre 500 criptovalute e token diversi supportati nell'app Ledger Live, probabilmente ci dice, ci sta dicendo però, dico, probabilmente, che si possono installare fino a 500 app in questo dispositivo. E questo vuol dire che avrà una memoria maggiore. Qui non troviamo in nessuna pagina un dettaglio per quanto riguarda la memoria, non c'è, non c'è scritto, ok? Quindi questa informazione ancora non l'abbiamo, ma appena l'avremo la inseriremo nella descrizione o in un commento magari fissato in alto, quindi ve lo faremo sapere. Ma probabilmente la memoria del Ledger Stacks sarà maggiore rispetto al Nano X, quindi è ottimo soprattutto se avete tante, tante, tante cripto diverse, perché sappiamo benissimo che poi se installate troppe app, a un certo punto la memoria finisce e dovreste andare ad acquistare un ulteriore Ledger Nano X. Naturalmente poi quando uscirà sul mercato faremo una comparazione del Ledger Stacks versus il Ledger Nano X e magari versus il Ledger Nano S+. Vi ricordo che abbiamo già pubblicato sul canale una comparazione e una guida all'acquisto del Ledger paragonando il Nano X al Nano S+. Andatela a recuperare il video. Con questo video noi invece abbiamo terminato, ci vediamo in un prossimo video. In basso troverete il link per poter preordinare il Ledger Stacks. Ciao e a presto!